Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o rocaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le profondità oscure, mi sono recato personalmente nel mercato locale dove mi è stato suggerito un prodotto che avvicinerà molti curiosi alle dinamiche del TCG targato Disney. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia l'avventura degli illuminatori, problemi negli abissi di Lorcana. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. La scatola si presenterà in finitura foil e ritrarrà Ursula che campeggia sovrana al centro dell'immagine con Flotsam e Jetsam, come sempre in sua compagnia, a guardarle le spalle, gli illuminatori intenti ad entrare in azione. Il titolo del TCG in alto, assieme al numero dei giocatori richiesto, è quello del prodotto posto in basso, con le diverse direttive del caso e l'età minima richiesta sulla parte frontale, il solo logo della casa distributrice sul lato destro e solo una colonna che riprenderà la trama dell'intera confezione su quello sinistro, il logo distintivo di Lorcana che domina solitario sulla parte superiore del prodotto e tutte le informazioni legali del caso descritte sul fondo, ed il contenuto sia illustrato in chiaro che elencato, con tutte le diverse possibilità che potrete sperimentare grazie a questo articolo riportate sul dorso della confezione. Una volta aperta la scatola, al suo interno troverete una carta di Ursula Oversize, che rappresenterà l'antagonista principale di questa avventura, un mazzo scenario composto da 50 carte della stessa Strega del Mare, due mazzi precostruiti da 60 carte ciascuno, che vedranno Topolino e Yen Sid essere i capitani del primo a tema scope magiche, e Pimpia, assieme a Mulan, per il secondo, che, da quel che ho potuto vedere, possiederà una discreta forza esplosiva, con una quota importante di cure, due carte giganti campo da battaglia stampate su entrambi i lati, che riporteranno le quattro difficoltà presenti nell'avventura per affrontare partite sempre più impegnative, un tappetino da gioco Problemi Negli Abissi, che raffigurerà da una parte un'immagine intera della lotta tra la regina di Atlantica e gli Illuminatori, e la plancia da gioco dall'altra, un segnalino Pesca di Ursula, tre segnalini Contatore Leggenda, 29 token danno, un regolamento di gioco, e una carta vittoria segreta, custodita in un booster pack dorato, dove sarà riportata la scritta, soltanto i vincitori potranno aprire questa busta e reclamarne il premio al suo interno, altrimenti, questo tesoro resterà proprietà della folle regina del mare Ursula per il resto dell'eternità. Arconte, che carta c'è all'interno del pacchetto? Quando sono andato a Modena, i signori della Ravensburger in persona mi hanno chiesto gentilmente di non rivelarvi il contenuto, perché rappresenta uno spoiler del prossimo set, e ho tutte le intenzioni di mantenere la promessa fatta. Anche per non rovinarvi la sorpresa e quindi il gusto del gioco e della scoperta, spetterà a voi sconfiggere la strega malvagia per reclamare, infine, il trofeo che vi spetterà di diritto. Beh, se è così, allora spiegaci come potremo dargli battaglia. La prima cosa da fare sarà preparare la plancia di gioco, dove dovranno essere disposte la zona dedicata al boss dell'avventura al centro e i due terreni dei giocatori rispettivamente, uno a sinistra e l'altro a destra. Poi toccherà al mazzo di Ursula e alla sua carta Oversize essere posti nelle proprie zone dedicate. Li riconoscerete a prima vista, dato che possiederanno entrambi un dorso dorato, a differenza dei due deck precostruiti, i quali riporteranno invece la classica grafica delle carte regolari per un match tra Illuminatori. Andando a cercare di seguito la carta Tridente rubato, posizionando la scoperta già da subito sull'area di gioco. Quindi, dopo aver svolto questi semplici passaggi, vi toccherà scegliere la difficoltà, che potrà essere selezionata tra quattro differenti. L'incontro, facile, un reame oscuro, normale, latana, difficile ed ira infinita, estrema. Per ogni livello saranno quindi disponibili o meno una serie di abilità specifiche, sia per la regina che per i giocatori. E per attivarle, questi ultimi dovranno rinunciare a tanti punti leggenda, quanti riportati sulla carta una volta per turno. Quindi, per fare un esempio pratico, se vorrete pescare due carte dal deck grazie all'abilità presente sulla carta L'incontro, da 17 punti lore scenderete a 14, rifornendo poi la mano di due elementi aggiuntivi. Sarà da notare che la carta campo da battaglia verrà posta al centro tra le plance dei giocatori, o dove sarà possibile leggere agilmente i suoi effetti. Quindi toccherà il segnalino pesca essere piazzato sul rispettivo numero. Questo indicherà quante carte andrà a mostrare la strega ad ogni sua fase di pescata, lo vedremo fra poco, e i segnalor ad indicare lo zero su ogni plancia. Se non disporrete della vostra zona, nessun problema. Potrete usufruire dello stesso campo di Ursula, o utilizzare un dado a 20 facce, o ancora il vostro cellulare, per tenere conto dello stato di avanzamento dei vostri punti leggenda. Quindi una volta che avrete terminato anche quest'ultimo passaggio, potrete dare inizio al match. Per gli illuminatori le fasi seguiranno il classico regolamento, che potrete trovare nella scheda appena apparsa in questo momento, mentre per Ursula ogni fase verrà svolta in questo modo. Il primo step sarà quello di preparazione, dove ogni carta sotto il controllo della strega verrà ripristinata, pronta per essere utilizzata. Quindi si passerà all'inizio del suo turno, dove tutti gli effetti che avranno luogo in questa fase verranno attivati, ad esempio l'accordo minore del contratto di Ursula. Poi si dovranno risolvere tutte le abilità delle carte presenti nell'area di gioco, partendo da sinistra verso destra. Tenete bene a mente che ogni personaggio raccoglierà punti lore, se non diversamente specificato dalla parola chiave attacca brighe, ed ogni oggetto verrà impiegato risolvendo il proprio effetto. In seguito si procederà alla fase di pescata, dove una alla volta verranno rivelate dalla cima del deck a dorso dorato due carte, o tre o quattro, massimo sei, a seconda della cifra segnalata dall'indicatore. Qui la strega potrà giocare la carta mostrata se il suo costo sarà pari o inferiore al numero di inchiostri presenti nel proprio calamaio. In caso contrario, porrà quest'ultima a faccia in giù nella medesima zona, accumulando risorse. Notate bene? Ogni carta che potrà essere utilizzata da Ursula non richiederà un pagamento attivo di ink. Le basterà infatti avere la giusta quantità per giocarla gratuitamente. Ad esempio, se essa disporrà di sei risorse, e rivelerà un'anna prima ed uno squalo poi, potrà giocarli entrambi senza pagarne il costo. Aspetta, Arconte, hai detto poco fa che Ursula potrà pescare anche tre o quattro carte fino a sei. In che modo? Ad eccezione fatta per la modalità facile, a seconda del numero di giocatori, mettiamo al caso due, quando il contatore lore della strega arriverà a dieci, essa potrà pescare una carta aggiuntiva andando a tre, e quando arriverà a trenta potrà pescarne un'altra ancora, arrivando a quattro per turno. Questo vantaggio sarà permanente e non verrà perso anche se il contatore scenderà al di sotto dei loro indicati. Troverete tutto comunque descritto sul regolamento di gioco. Per quanto riguarda invece le informazioni aggiuntive generali, dovrete tenere presente che le diciture tu, tuo sulle carte di Ursula faranno riferimento a lei, mentre giocatori avversari agli illuminatori che la fronteggeranno. Mentre sulle vostre carte la dicitura un giocatore potrà far riferimento anche ad Ursula stessa. In più, i turni degli Illuminir avverranno in contemporanea, quindi coordinate le abilità delle carte sotto il vostro controllo per creare sinergie micidiali che getteranno nel sempiterno zolfo il nemico comune per l'eternità. Inoltre, grazie alla possibilità che la Ravensburger mi ha fornito invitandomi alla pre-release durante il Modena Play, alcune informazioni importanti sono trapelate, tra le quali, è vero che sulla scatola è riportato un numero massimo di due giocatori, ma la partecipazione può essere stesa fino a quattro, magari grazie all'impiego dei due starter deck presenti nel set del ritorno di Ursula. Questa avventura può tornare utile sia a chi vuole imparare le regole del gioco, avendo la possibilità di insegnare contemporaneamente a quattro giocatori le dinamiche che muovono l'orcana, magari facendo vestire a chi insegna i panni proprio della strega, sia e soprattutto a chi gioca per testare il proprio mazzo da torneo, tentando di tenere testa ad Ursula in modalità sia difficile che estrema. Molto bene, Arconte, e se il mazzo del boss termina? In quel caso, se Ursula non avrà la possibilità di pescare carte dal proprio deck, dovrete mescolare tutte le carte presenti nella sua pila degli scarti, andando di seguito a formarne uno nuovo pronto per essere utilizzato. Ok, Arconte, tutto molto interessante, ma come si vincerà una partita in questa avventura? Quando tutti i giocatori si ritroveranno in contemporanea, 20 o più punti lore, potranno essere proclamati vincitori dell'incontro. D'altro canto, verranno sconfitti tutti appena la strega del mare raggiungerà 40 o più punti leggenda. Il prezzo indicativo di questa perla sarà di 60 euro, e posso dirlo già da subito. Varrà la pena comprarlo solamente per la presenza dei due starter, che potranno essere utilizzati come basi di partenza per altri deck. In più ci saranno le diverse carte da collezione presenti all'interno della scatola, come la Oversize di Ursula, il suo deck, e la misteriosa carta all'interno del booster pack dorato. Inoltre, la spesa potrà essere divisa tra due appassionati, che rispettivamente poi andranno a prendere possesso di uno dei due deck presenti nella confezione, gestendo infine il restante come meglio crederanno. Complimenti quindi alla Raven per aver ideato un prodotto simile, che sono certo avvicinerà moltissimi curiosi alle meccaniche del TCG targato Disney. Prima di concludere, volevo ringraziare Fantasia Store per aver fornito l'articolo mostrato in questo contenuto. Come sempre, vi lascerò il link al prodotto in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio, verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!